Oggi le valigie, grazie a un collegamento con lo smartphone del proprietario, sono in grado di seguirlo in totale autonomia. In più, ricaricano il cellulare, indicano il proprio peso e la propria posizione nel mondo, si aprono e si chiudono con il riconoscimento delle impronte digitali e avvertono con un allarme se qualche malintenzionato le sta allontanando dal proprietario. Grazie.